Grazie. 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 Vai, perfetto. Mi sono fatto provare da parte, via Puntoy. Adesso che scende la fermata e si porta l'ombra. Che piove più pulizia. Ma che grande, dai! Ma che stai cantando, non ci vediamo? Gente del Sud. Ah, gente del Sud. E' un po' proprio! E' già stata per il mio video. E' abbastanza buio. E' che mi spogliono come una pezzola. E' che poi tu consigli. E' che ho considerato che qua appiccico se il caldo, non è malazzo. E' che vado pure. 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 E' che vado pure la Quasi buona minuti.